Doppio e simultaneo intervento al reparto di oculistica dell'ospedale San Bassiano. Una bambina di 5 mesi, affetta da cecità dovuta ad una catarata congenita bilaterale, è stata operata con successo dai dottori Antonio Toso e Simonetta Morselli. Un lavoro in sinergia che ha consentito l'impianto del cristallino artificiale alla piccola di tornare a vedere.